Ciao a tutti, Ternana bella di notte, la Ternana vince per 3-0 al libero librati contro il Pinedo partita che inizia abbastanza bene per la Ternana che si rende subito pericolosa con Casasola con Cicirelli, Cicirelli molto sprintante e molto attivo sulle fasce partita che si sblocca grazie a un bellissimo gol di Cianci poi è Romeo a chiudere definitivamente la gara sul 2-0 e poi nel secondo tempo arriva il 3-0 sempre di Cianci partita che ha visto la Ternana dominare letteralmente sul piano del gioco che ha visto la Ternana incidere dal punto di vista della prestazione e noi vogliamo che questi ragazzi giochino così per tutto il campionato perché i giocatori ci sono per fare bene e ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo campionato arrivano novità anche in merita le questioni societarie perché il Presidente Guida conferma che ci siano delle trattative per la gestione caratternana e ora vedremo quello che succederà se questo vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche